Il Summit Contest è una gara europea di primo soccorso per giovani dai 13 ai 27 anni. Si svolgerà dal 18 al 21 agosto in Polonia e Slovacchia. Le squadre si sfideranno in prove di primo soccorso e giochi di abilità. Ampas schiererà due squadre appartenenti al Comitato Lingue, selezionate durante lo scorso meeting nazionale. Fabio Crocedoro Scerbaros. Gabriele Croce Varde Sestri Ponente. Carola Croce Bianca Genovese. Mara Croce Varde Sestri Ponente. Matteo Croce Bianca Albinga. Andrea Croce Varde Sestri Ponente. Matteo Croceoro Scerborasca. Francesca Croce Tavere Scerborasca. Il soccorso è famiglia. Il soccorso è dedizione verso il prossimo. Aiutare il prossimo. Il soccorso per me è scoop and run. Il soccorso è mettersi in gioco. La bellezza del volontariato. Nuove esperienze. Il soccorso è dare continuità alla vita. Se vinco il contest giuro di laurearmi giusto negli anni. Mi farò la cristal tricolore. Faccio un turno di 48 ore in croce bianca. Se vinco il contest mi tingo i capelli di blu. Mi taglio i capelli a zero, proprio pelato. Mi faccio le unghie arancioni per una settimana. Mi farò un nuovo piercing. Se vinciamo il contest facciamo fasta.